L'Enigma di San Procolo a Bologna In Via d'Azeglio 52 a Bologna si può leggere questo enigma. Sono state fornite molte interpretazioni per spiegare questo vero e proprio gioco di parole, e tutte hanno un contenuto alquanto giocoso. I più fanno risalire al racconto di uno studente, di nome Procolo, morto per il troppo studio e sepolto dentro al cimitero del monastero di San Procolo. Particolarità di questa interpretazione è il tono ironico verso il troppo studio, imposto già alla fine del 300 agli allievi della Università di Bologna. Una interpretazione alternativa citerebbe Procolo, centurione romano, decapitato sulle colline vicino alla città di Bologna, il cui capo sarebbe rotolato fino alla posizione della lapide. Si è registrata un'ulteriore interpretazione che racconta di un incidente mortale in corso nel sito. Il sacrestano Procolo sarebbe deceduto a seguito della caduta della campana, e venne poi sepolto nei pressi della chiesa. Altre ipotesi vogliono che il Procolo morto sia il campanaro ucciso dal faticoso lavoro di suonare le campane di notte e di giorno. Chissà quale di queste, o altre, ipotesi sarà vera?